Ciao a tutti e bentornati ad un'altra pillola di storia con Vopitalia. Oggi voglio parlarvi di una nave, di una nave particolare perché è una nave che quando fu costruita doveva essere la più grande e la più potente del mondo, una nave che navigò veramente molto poco, adesso sentirete la sua storia, e soprattutto una nave bellissima che è ancora possibile ammirare adesso. Oggi vi parlo della Vasa, la Vasa che quando fu costruita doveva essere l'orgoglio della marina svedese. Un piccolo passo indietro, la Vasa fu costruita tra il 1626 e il 1628, fu costruita per ordine di un grande re svedese, Gustavo II Adolfo, che sarà poi conosciuto come il Leone del Nord e sarà quello che lancerà la Svezia nella guerra dei trent'anni, sconfiggerà inizialmente l'impero cattolico morendo proprio durante la guerra dei trent'anni, peraltro vincendo la battaglia. E' colui che sostanzialmente iniziò quel breve periodo in cui la Svezia fu la potenza egemone nel Nord Europa. Ebbene, Gustavo II Adolfo per tutta la durata del suo regno fu impegnato in guerre e a cavallo tra il 1620 e il 1630 in particolare era impegnato in guerra contro un suo lontano cugino, re di Polonia in questo caso, che essendo anche lui un Vasa, cioè che era il nome della famiglia regnante a quel tempo in Svezia, stava cercando di detronizzarlo per prendere il trono. La guerra con la Polonia si trasformò ben presto in una guerra per il dominio del Baltico e delle terre che vi si affacciavano, anche perché vi entrò la Danimarca, al lato svedese, e vi entrò l'impero, o meglio l'Austria, al lato della Polonia. La guerra, come detto, era molto lunga e si combatte sia in terra, dove il nuovo esercito creato dal re svedese si stava dimostrando superiore a quello polacco, ma si combatte, ovviamente, essendo una guerra per un mare, seppur chiuso anche sul mare. E proprio per questa guerra Gustavo Vasa, ma anche per dimostrare la propria forza, la ricchezza del proprio casato, decise di creare una nave, o meglio un galeone da guerra, che fosse il più grande di tutti costruito fino a quel momento. Nel 1626 venne messo in cantiere appunto un galeone. Il maestro costruttore che aveva iniziato a prepararlo era stato obbligato, tra virgolette, a lavorare su un progetto che fosse il più grandioso possibile, che potesse portare molti cannoni, che la nave fosse molto grotto grossa, ma al tempo stesso che fosse abbastanza veloce da poter essere impiegata in battaglia. Il galeone che ne venne fuori era lungo, probabilmente, secondo quello che sappiamo, tra i 55 e i 58 metri, ma questo al re non bastò. Al re non bastò perché aveva saputo che da altre parti in Europa si stavano costruendo dei galeoni della stessa dimensione e quindi insistette affinché la lunghezza del galeone venisse aumentata a 61 metri. Non solo. Il numero di cannoni che erano stati pensati dal progettista non bastava, secondo il re, e quindi chiese che venisse aggiunto un'ulteriore linea di cannoni. Prova per immaginare le classiche navi, gli classici galeoni che si vedono anche nei film con i cannoni su più piani. Ebbene, lui volle che ne venisse aggiunto un'altra, con tutto quello che poteva comportare dal punto di vista del peso. Stiamo parlando di cannoni di bronzo da un peso decisamente importante, senza constare la polvere da sparo, le palle, eccetera, eccetera. Per somma sfortuna, mentre il re avanzava queste proposte e quindi obbligava a modificare il progetto iniziale, il progettista navale morì, lasciando i suoi carpentieri, e ho trovato da alcune parti, alla vedova e ai figli. Questo viene riportato da altri non ho trovato fonti più precise, lasciava appunto il lavoro sulla nave. Chi comunque prese in mano i lavori, e questo ve lo dico per certo perché viene confermato anche in Svezia, chi prese in mano i lavori sicuramente non aveva l'esperienza del mastro carpentiere precedente, e prese il progetto originale e lo modificò semplicemente secondo le richieste del re, limitandosi per cercare di compensare dall'aumento di altezza e all'aumento di dimensione, limitandosi ad aumentare la zavorra. Voi dovete pensare che una nave per navigare ed evitare di ribaltarsi ai colpi di vento, essendo ovviamente alta, ha bisogno, questo gesto era bruttissimo, ha bisogno di una zavorra, cioè di un peso situato alla base che tenga la nave all'interno dell'acqua. Ovviamente il suo peso deve essere ben calcolato perché se la zavorra è troppa la nave rischia di affondare, se la zavorra è troppo poco rischia di ribaltarsi, se la zavorra comunque è mal studiata la nave andrà troppo lentamente per essere utilizzata in guerra. Ebbene, le modifiche alla nave servivano appunto a limitare questo, ma evidentemente qualcosa non funzionò, e che qualcosa non funzionasse se ne resero conto ben presto, quando lo scafo fu ultimato. Ci vollero due anni, nel 1628 lo scafo fu ultimato e quando per la prima volta venne sperimentato in acqua si resero conto che qualcosa non andava. All'epoca per valutare la stabilità di uno scafo si prendevano un 50, 70, 100 marinai a seconda delle dimensioni della nave e gli si faceva, immaginatevi questo, il ponte della nave, correre velocemente da una parte all'altra. Se avete visto il film, il secondo film, o il terzo non ricordo, dei pirati dei Caraibi è esattamente quello che fanno loro per fare ribaltare la nave. Ovviamente lo scopo non era ribaltare la nave, ma era obbligare un peso a spostarsi da una parte all'altra per mettere sotto sollicitazione la nave. Da quello che ci viene raccontato, già dai primi colpi dati alla nave, questa tendeva ad ondeggiare molto, cosa che indicava come in effetti la nave non fosse così stabile. La cosa però venne tenuta nascosta, era già stato investito molto denaro in questa nave e sicuramente nessuno voleva scontentare il re che si diceva avesse un bel caratterino. La nave venne quindi completata, venne addobbata perché all'epoca nelle navi più importanti c'era questa abitudine di creare un grosso addobbo, ligno, attorno al castello di prora della nave per appunto abbellirla a momento del varo. Vennero posizionate le vele, vennero posizionati i cannoni e venne imbarcato per ordine del re una grande quantità di quadri, vasellame, libri, tutto quello che potesse rendere più bella la nave per il suo varo. Alla fine vennero ovviamente imbarcate 130 persone che avrebbero dovuto assistere al varo della nave, fortunatamente non il re che invece vi assisteva da un castello. Perché dico fortunatamente? Perché la nave che già era instabile e peraltro mal studiata al punto di vista dei pesi alla base, improvvisamente si trovò veramente in una posizione critica. Perché l'aumento di peso dato dal legno aggiunto per gli abbellimenti, da tutto il materiale portato dai cannoni, la fecero lentamente abbassare. Questo abbassamento fu molto molto più accentuato di quello che ci si poteva aspettare, tanto che i portelloni dei cannoni più bassi, che come la tradizione voleva erano quelli più pesanti anche per una questione di stabilità, si trovarono ad essere quasi al pelo d'acqua. I portelloni ovviamente, immaginatevi anche in questo caso in qualunque film di pirati, sono quelli che si aprono e permettono l'uscita del cannone per poter sparare. La nave quindi era instabile e a pelo d'acqua poteva andare qualunque cosa storto e di fatti qualcosa storto andò. La nave inizio uscì dal porto di Stoccolma, si allontanò di pochissimi metri e secondo cosa dicono i cronisti dell'epoca dopo appena 50-60 metri venne colpita dalla prima folata di vento. Le vele che erano state spiegate anche per mostrare la potenza del galeone, vennero colpite dalla folata di vento. La nave si inclinò e solo grazie alla capacità e al valore del nocchiero, di colui che la guidava, si riuscì a riportarla dritta. La nave era quindi dritta, continuò a navigare per altri 50 metri quando ecco che un'altra folata la colpì. Ancora una volta il nocchiero fu veramente molto abile perché evitò che la nave si piegasse troppo e si ribaltasse, ma la sua abilità non poteva niente contro il secondo problema della nave. La nave infatti inclinandosi si trovò ad avere i portelloni dei cannoni inferiori che improvvisamente scesero sotto il livello dell'acqua. È vero che i portelloni erano chiusi ma erano tutt'altro che a tenuta stagna e appena si trovarono al di sotto del livello dell'acqua questa iniziò a entrare nella nave. Fu rapidissimo, l'ingresso dell'acqua nella nave la fece ulteriormente abbassare e quindi i portelloni dei trambilati iniziarono ad imbarcare acqua. Ci mise veramente, secondo quello che dicono i cronisti, pochissimo tempo, forse pochi minuti prima che la nave affondasse. Si piegò definitivamente e quindi affondò in mare. Quella che era la nave più bella mai costruita da un cantiere svedese, più grande e più potente, ci mise pochissimi minuti ad affondare senza essere stata colpita da nient'altro che da due raffiche di vento. Delle 130 persone una quarantina morirono. Le altre si salvarono, si salvò il re che osservò questo scatafascio dalla torre del suo castello e che sicuramente ne venì colpito quantomeno nell'orgoglio. Negli anni successivi venne comunque ordinato un tentativo di recupero non tanto della nave che, per quanto si fosse adagiata su un fondale non molto alto, era comunque impossibile da recuperare per i mezzi dell'epoca, quanto dei cannoni di bronzo. Riuscirono, peraltro sotto progetto di un italiano, a far scendere una campana subacqua e a recuperare quantomeno i cannoni di bronzo del ponte superiore, quelli più leggeri, quelli più facili da raggiungere. Siamo a metà del 1600, la nave sostanzialmente col tempo venne dimenticata e anche se il relitto giaceva in effetti a una quota abbastanza bassa, nessuno mai tentò di recuperarlo. Una profondità ovviamente non quota abbastanza bassa, nessuno mai tentò di recuperarlo. Anzi col tempo addirittura la sua posizione venne dimenticata. A metà del 1900 si iniziò invece a pensare di recuperarlo utilizzando i sonar, fu molto facile trovare il relitto e nel 1961 un progetto riuscì a recuperare la nave. Vennero immerse delle corde, rette ovviamente da delle chiatte, che lentamente sollevarono la nave dal fondale. La depositarono su un'altra chiatta, questa volta sommersa e la portarono lentamente nel porto di Stoccolma. Qui nel porto di Stoccolma venne lentamente riportata alla luce. Il regno, il ferro, la tela delle vele che addirittura si era ancora conservata vennero trattate e ripristinate. La grande fortuna di questa nave è che il mare del nord è a tutti gli effetti ottimo per la conservazione delle navi. È troppo freddo, e troppo poco salato affinché la Teredonavalis, che normalmente divora il legno delle navi, lo potesse aggredire. Inoltre si era adagiato su un fondo melmoso denso che aveva ulteriormente protetto il legno. Ci vadano comunque molti anni per ripristinarlo e alla fine, dopo averlo riportato definitivamente alla luce e tolta definitivamente dall'acqua, gli svedesi ci costruirono intorno un museo. Se adesso andate a Stoccolma potete andare a vedere il Museo della Vasa. Vi assicuro che è una delle cose più belle da vedere in una città peraltro bellissima. Il museo è meraviglioso, io ci sono stato. Immaginatevi che c'è la nave al centro circondata da il museo, che è costruito praticamente su più livelli, da cui ovviamente si può salire, che permettono ovviamente nella parte espositiva di vedere tutto quello che fu recuperato dai cannoni, il vasellame, la storia della Vasa, la storia della Svezia nel 1600, ma nella parte centrale permette di ammirare una nave che è veramente bellissima, bellissima anche perché ha ancora ovviamente tutto il castello e le formazioni linee che furono create appositamente per il suo varo. Vi consiglio se andate a Stoccolma e andate a darlo a vedere, è bellissima e fatelo perché è veramente 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 bello. Bene, io vi saluto qua, vi ricordo che se volete discutere di storia venite sul forno di Bopitalia nella sezione forno di Cesare, vi ricordo come al solito di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie che nessuno scrittore e nessun regista potrà mai mettere in un libro o in un film, tra cui una nave bellissima che naviga per 150 metri e poi finisce in fondo al mare senza che nessuno la tocchi. Se volete iniziare a curiosare, qui alla mia destra ce l'elenco delle pilole di storia uscite fino adesso. Noi ci vediamo domani, a domani, ciao ciao!